L'Umbria sta andando avanti molto bene sulle risorse destinate alle infrastrutture materiali, ma naturalmente un tema fondamentale è anche quello del digitale, della banda ultralarga che deve arrivare in tutti i nostri territori. L'Umbria è una terra che ha molti bellissimi borghi, però disseminati nel territorio dove è possibile vivere, dove non solo è possibile fare una vacanza straordinaria, ma anche uno stile di vita, per cui sicuramente l'infrastruttura digitale è fondamentale per consentire di venire a vivere in Umbria, di investire e anche a lavorare nella nostra regione.